Asciali, io li odio questi posti, non mi piacciono. Perché mi porti qui? Amore, non capisco cos'è che ti agita così tanto. Siamo in un negozio biologico. Cosa vuoi che sia? Cosa ci siamo venuti a fare in un negozio biologico? Respiriamo schifette. Appunto! Smog tutto il giorno, siamo stressati. Poi veniamo qui, compriamo un biscottino al sedano rifinito, un grissino alla ghianda di fiume, pensiamo di star meglio. Sveglia, guarda quante cose belle, tipo 28 di cereali diversi. Tu ne vai matto, me li chiedi sempre, scusa, dai. Quando metti questi cereali mi fanno schifo i cereali. Io voglio i sughi, i sughi di animale morto, tritato, gli intingoli. Questa roba dicono biologica. Biologica che? Fa schifo, non sa di niente e costa un botto. Questo è biologico. Ma non è vero assolutamente, ci sono cose buonissime. Per esempio la crusca, è buonissima, è sanissima. Come no? Tutta fibra, tutta natura, assaggia? È buona, purifica. È stopposa, non sai niente. Ma cosa stai dicendo? Non senti che è buona che è. Ma dove buona? Ma che fate? Mangiate la segatura? Che schifo! Brava. Buonissima. Scusa pure. Ui, shampoo, vieni a vedere. Addirittura il limone, eh? Addirittura, le belle notizie non finiscono mai proprio, eh? Così che li facciano con i limoni veri. No, mi scerco, i limoni finti si fanno. Scusi signora, questo shampoo qua viene fatto con i limoni veri? Beh ma certo, ma la cosa importante è che non è stato testato su nessun animale, come del resto nessuno dei nostri prodotti è stato testato sugli animali. Questo è bello, questo è molto bello. Ma che beneficio ha sul cappello il limone? Il limone è sgrassato. Ma l'hai ammazzato? No, sto testando. Su un animale va a testare uno, almeno bisogna testare. Che schifo. Non è che ha un kleenex, una cosa che... È ancora vivo, è ancora vivo. Che schifo. Grazie a tutti.